Se stai cercando informazioni sui telecomandi per letti elettrici, fermati ad ascoltare perché ti sto per svelare tutto quello che dovresti sapere sulle reti elettriche con telecomando senza fili e sulle pulsantiere a filo. Quindi ti linkerò gli svantaggi a livello funzionale che ho individuato in queste diverse tecnologie di telecomando. Ma prima di questo ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube, cliccare sulla campanella per non perderti tutti gli aggiornamenti su questo e tanti altri argomenti che ti potrebbero interessare. Allora, alcune reti elettriche ad oghe possono venire comandate da una pulsantiera a filo, altre da un telecomando a raggi infrarossi, quindi senza fili o wireless per gli anglofoni, ed altre ancora possono supportare nativamente la tecnologia senza fili a radiofrequenza. A queste tecnologie potrebbe essere affiancata anche una serie di ulteriori caratteristiche avanzate rispetto alla semplice movimentazione di schiena e di gambe, come per esempio la possibilità di memorizzare le posizioni della rete, tasti di emergenza, dispositivi di illuminazione, oppure dispositivi anti-blackout a batteria. Quindi ti parlerò di pulsantiere a filo, di telecomando a raggi infrarossi con centralina esterna, di telecomando radio con centralina esterna e di telecomando radio wireless integrato all'interno dell'attuatore. Quindi partiamo con la pulsantiera a filo che è il più comune telecomando usato sui letti elettrici. Spesso viene chiamato con i nomi più fantasiosi dei creativi pubblicitari, ma in realtà è per lo più una normale pulsantiera a contatti collegata con un cavo elettrico che può essere liscio oppure espiralato. Il vantaggio principale della pulsantiera a filo è che è semplice da utilizzare perché di solito ha solo le funzioni necessarie per movimentare la rete, che generalmente si possono attivare anche contemporaneamente, quindi si potrà sollevare la schiena mentre si abbassano le gambe o viceversa. Essendo collegata con una connessione a filo, supporta direttamente la funzione anti-blackout, quando ovviamente è prevista dal motore, quindi eventualmente può movimentare la rete in discesa anche in assenza di corrente, senza la necessità di premere un tasto di emergenza sotto al letto. Chiaramente solo quando nell'attuatore è prevista la funzione anti-blackout a batteria e la batteria è carica. Bene, la pulsantiera a filo funziona anche da sotto le coperte, sempre che naturalmente non ti infastidisca la presenza del filo. In caso di guasto la pulsantiera si sostituisce semplicemente scollegandola dall'attuatore tramite un connettore. E il ricambio costa naturalmente meno rispetto a pulsantiere più tecnologiche. Svantaggi della pulsantiera a filo? Ce ne sono, ad esempio è fisicamente collegata al motore, quindi dovrai trovarle un posto dove posizionarla quando non la utilizzi più. Chiaramente compatibilmente con la lunghezza del suo cavo di collegamento. Altro vantaggio della pulsantiera a filo è che aggiunge fili sotto al letto, che possono essere antiestetici, possono creare fastidi quando pulisci, oppure possono finire tra i denti degli animali domestici. Quindi il filo alle volte può venire aggredito dal coniglio, dal cagnolino di casa, che magari lo potrebbe strappare, masticarlo, costringendoti naturalmente a sostituire poi la pulsantiera. Ecco, passiamo ora al telecomando a raggi infrarossi con centralina esterna, che è un semplice sistema di comando, composto da un telecomando a LED infrarossi, tipo quello dei televisori, tanto per capirci, e da una centralina a batterie. La centralina all'interno ha un ricevitore per il telecomando, si connette al motore della rete elettrica al posto della pulsantiera, che così viene emulata dalla centralina. Ecco, questo sistema è nato per poter avere un telecomando senza fili su un motore a pulsantiera. Il vantaggio principale di questo kit a infrarossi è che il telecomando non ha connessioni fisiche, quindi una volta utilizzato lo potrai riporre dove ti è più comodo. Inoltre, grazie al funzionamento di tipo ottico, non emette alcun tipo di radiofrequenza. Generalmente è semplice da utilizzare perché di solito ha solo le funzioni necessarie per movimentare la rete. E tra l'altro, avendo una centralina a batteria, supporta direttamente la funzione anti-blackout, sempre quando è prevista dal motore, quindi può comandare la rete elettrica in discesa anche in assenza di corrente. Questo è valido chiaramente solo per le centraline che funzionano a batterie. Sulla centralina è sempre presente un tasto di emergenza che ti permette di abbassare i piani di rete anche senza il telecomando. E se la funzione è anti-blackout e supportata, anche in assenza di corrente. Ecco, se un giorno vorrai tornare alla pulsantiera a filo, ti basterà semplicemente scollegare la centralina dall'attuatore e ricollegare la pulsantiera a filo al connettore. Il kit interfarrossi non ha generalmente funzioni particolarmente avanzate, quindi non è possibile richiamare più funzioni contemporaneamente, come per esempio fare salire lo schienale mentre stanno scendendo le gambe. O si fa uno o si fa l'altro. Il kit funziona a batterie, quindi di tanto in tanto le dovrai sostituire. Non solo sul telecomando, ma molto spesso anche nella centralina connessa all'attuatore. Non si può utilizzare da sotto le coperte, perché funziona come il telecomando dei televisori, quindi va puntato verso il proprio ricevitore a raggi infrarossi, che può essere incorporato nella centralina che avrai collegato al motore, oppure collegato ad un filo esterno. E purtroppo alle volte le coperte possono anche coprire il ricevitore a infrarossi, impedendone naturalmente il funzionamento e quindi il telecomando non avrà più nessuna efficacia. Il kit a infrarossi potrebbe non essere in grado di capire quando termineranno le batterie, e quindi sarebbe sempre utile tenerne di scorta nel caso ad un certo punto smettessere di funzionare tutto il sistema appunto per via delle batterie scariche. Quindi punti, il letto non funziona, le batterie probabilmente sono scariche. Fai attenzione perché anche i cavi della centralina sotto il letto del ricevitore a raggi infrarossi possono venire aggrediti dagli animali domestici, strappandoli o peggio, masticandoli. E in ultimo sappi che alle volte gli attuatori fatti per funzionare con la pulsantiera a filo potrebbero non supportare in maniera ottimale le centraline per il funzionamento senza fili. Ecco, veniamo ora al telecomando radio con centralina esterna, che è un semplice sistema di comando composto da telecomando a radiofrequenza e da una centralina a batterie. Si connette al motore della rete elettrica, che originariamente era nato per la connessione con una pulsantiera a filo, quindi è un connettore, e mima la caratteristica della pulsantiera. Anche il radiocomando è semplice da utilizzare. Di solito ha solo le funzioni necessarie per movimentare la rete, non ha connessioni a filo, per cui lo puoi fissare o riporre dove ti è più comodo, non dà nessun fastidio. Le emissioni radio sono a bassissima potenza, quindi può venire utilizzato anche da sotto le coperte, anche perché a differenza del telecomando a infrarossi non va puntato. Quindi, tra l'altro, il telecomando è compatibile, quindi può venire associato a magari anche un'altra centralina. Normalmente ha una centralina a batterie, supporta direttamente la funzione anti-blackout, quando è prevista, per cui è in grado di comandare la rete in discesa anche in assenza di corrente, ma questo è valido solo per kit con centralina a batterie. Anche sulla centralina ricevente del kit a radiofrequenza è sempre presente un tasto di emergenza che permette di abbassare i piani di rete anche in assenza di telecomando e quando è previsto dall'attuatore anche in assenza di corrente, ma deve essere previsto dall'attuatore. Scollegando dall'attuatore il ricevitore radio sarà possibile ricollegare la pulsantiera a filo originale. Ecco, anche questo kit non ha generalmente funzioni particolarmente avanzate, non permette di richiamare più funzioni contemporaneamente. Funziona a batterie che di tanto in tanto vanno sostituite, non solo sul telecomando, ma in alcuni modelli anche nella centralina collegata al motore. Anche il kit a radiofrequenza, normalmente, non è in grado di capire quando termineranno le batterie. Quindi, se a un certo punto non funzionerà più, bisognerà sostituire le pile del telecomando oppure le pile della centralina, se presenti. La centralina sotto al letto è collegata all'attuatore tramite un cavo che occasionalmente potrebbe venire aggredito dagli animali domestici. In ultimo, tieni presente che i motori progettati per funzionare con la pulsantiera a filo, anche in questo caso, potrebbero non supportare in maniera ottimale le centraline per il funzionamento senza fili che, se collegate a motori più economici, potrebbero anche non funzionare affatto. Per finire, arriviamo al sistema con ricevitore wireless radio integrato nell'attuatore. Questo, a mio avviso, è il sistema più interessante. È un sistema che può essere di tipo analogico oppure digitale, più o meno complesso. A volte, nei sistemi più evoluti, penso che può essere anche controllato da un microprocessore. È composto da un motore avanzato che nasce specificamente per funzionare senza fili ed è fortemente ottimizzato per questa peculiarità. Quindi, presenta anche caratteristiche avanzate, come memoria oppure connessione Bluetooth. L'attuatore ha il grosso vantaggio di nascere con le specifiche wireless e quindi è fortemente ottimizzato per questo specifico sistema. Il telecomando non ha connessioni a filo, quindi non deve essere puntato verso un ricevitore. Lo potrai fissare o riporre dove ti sarà più comodo. Grazie al funzionamento radio a bassissima potenza, lo potrai utilizzare anche sotto le coperte. In genere, la tastiera è retroilluminata, quindi può risultare ben visibile anche il buio. Inoltre, può implementare anche funzionalità avanzate, come memorie, funzione torcia, luci di cortesia sotto al letto, Bluetooth e tanto altro. Questo dipende dal tipo di motore, dal modello e dalla marca. Quando il trasferimento dei dati avviene in modalità digitale, l'attuatore può essere in grado di eseguire più funzioni contemporaneamente, come per esempio sollevare lo schienale mentre si sta abbassando le gambe. Un solo radiocomando può essere in grado di supportare anche il funzionamento di due attuatori in movimentazione simultanea sincronizzata per l'utilizzo, ad esempio con un letto a due piazze. Mi mando la movimentazione a singola piazza. Questa modalità può venire attivata in qualsiasi momento senza la necessità di aggiungere cavi o accessori. In genere, basta riprogrammare l'associazione del radiocomando agli attuatori. Non è necessaria la centralina ricevente, essendo incorporata nell'attuatore e alcuni telecomandi più avanzati sono addirittura in grado di segnalare un livello basso di batteria prima ancora che la carica termini del tutto, così avremmo il tempo di sostituire le batterie senza interruzione di servizio. Alcuni modelli di questi attuatori sono così avanzati che implementano sul radiocomando un led di diagnostica, di controllo delle funzioni del telecomando e anche di verifica di trasferimento dei dati digitali da telecomando a motore. Quindi non viene indicato solo il funzionamento del telecomando, infatti quando si perde la connessione digitale il led di controllo non emette più segnali. Qualsiasi telecomando dello stesso modello può venire associato ad un motore che lo supporti, quindi i telecomandi sono intercambiabili. Sul motore è sempre presente comunque un tasto di emergenza che permette di abbassare i piani di rete anche in assenza di telecomando o in assenza di corrente. Alcuni sistemi particolarmente avanzati possono venire comandati tramite bluetooth, questo per l'integrazione con il sistema di domotica dell'abitazione oppure per l'utilizzo con applicazioni dedicate magari tramite smartphone. Ecco, oltre al normale cavo di alimentazione, non presenta ulteriori fili o centraline esterne sotto il letto, tutto è più ordinato, è più sicuro e maggiormente al riparo dal possibile attacco di animali domestici. Gli svantaggi di questo sistema sono veramente pochi dal mio punto di vista, per esempio non è solitamente possibile collegare un telecomando a filo a questi attuatori che nascono unicamente wireless, cioè con il radiocomando senza fili, anche se in realtà esiste un'eccezione, perché l'attuatore T5 integra anche questa possibilità, cioè nasce col radiocomando senza fili ma attualmente, nel modello attuale, ha ugualmente il connettore per il collegamento del telecomando a filo che può venire utilizzato in accoppiata al radiocomando, è abbastanza interessante come funzione. Il telecomando ti ricordo che funziona a batterie, quindi di tanto in tanto vanno sostituite perché con l'uso chiaramente si scaricano. Ecco, infine la funzione anti blackout che permette di fare abbassare il piano di rete anche senza la corrente, di solito è richiamabile solo dal tasto di emergenza posto sul motore, ma anche per questo dipende dai modelli. Infatti alcuni attuatori come per esempio il T5 permettono l'abbassamento di emergenza anche dal radiocomando, nonostante abbia comunque il pulsante di emergenza. Quindi in conclusione possiamo tirare le somme di questa carrellata di telecomando e dicendo che non esiste un sistema migliore rispetto ad un altro, tutto dipende dalle tue specifiche esigenze personali e naturalmente da quanto sei disposto a spendere per un sistema letto. Spendendo poco avrai poco, spendendo di più avrai chiaramente di più. Se poi avessi riscontrato ulteriori magari vantaggi oppure svantaggi nell'utilizzo di questi sistemi letto a radiocomando, ti prego di segnalarmi lì e inviandomi un commento. Ecco, se il video ti è piaciuto mi raccomando condividi sui tuoi social, inseriscilo nel tuo blog, soprattutto metti un mi piace, iscriviti al mio canale YouTube e attiva la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti, come spero sia stato questo. Come sempre cerca Savoldi il tuo falegname di fiducia. A presto!